Ben ritrovati in studio per questa seconda parte di Free News, come anticipato adesso i fatti di cronaca. Vittoria, la polizia ha denunciato due ragazzi di 15 e 21 anni, sorpresi a rubare all'interno di un'abitazione disabitata del centro storico. Due giovanissimi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria dalla polizia di Vittoria. Alle 5 del mattino la presenza di una strana coppia, una ragazza e una ragazza, è stata notata nei pressi della sede del vecchio mercato del pesce di Vittoria. Oggi Sala manderà. I due, dopo aver infranto il vetro e diverto l'anta di una porta finestra, sono entrati dentro una casa. Lei ha 21 anni, lui appena 15. Entrambi, noti agli agenti intervenuti sul posto, hanno qualche piccolo precedente di polizia. Invitati a svuotare le tasche, la ragazza ha tirato fuori un cacciavito, un taglierino e dei guanti in lattice. Il ragazzo invece era in possesso di numerose chiavi di serrature e 6 carte di credito intestate a una stessa persona, ma scadute di validità. Le chiavi erano state rubate nottetempo da un ripostiglio esterno dell'ospedale civile di Vittoria, adibito a deposito di materiale per le pulizie, mentre le carte di credito erano dal proprietario dell'immobile violato. Entrambi sono stati denunciati per tentato furto e danneggiamento. Il minore, dopo gli accertamenti, è stato riconsegnato agli esercenti, la potestà genitoriale. Intensificazione dei controlli da parte dei carabinieri ad Acate, diverse le persone controllate, mentre un arresto è stato compiuto nei confronti di un non vittoriese. Arrestato Davis D'Angelo, vittoriese di 28 anni, residente ad Acate, pregiudicato per reati contro il patrimonio, che deve scontare la pena residua di due anni, nove mesi e 29 giorni di reclusione. L'arresto è avvenuto durante una serie di controlli da parte dei carabinieri ad Acate. Il servizio scaturisce dalla richiesta di sempre maggiore sicurezza da parte dei residenti, anche a seguito della recrudescenza dei reati contro il patrimonio. Nello specifico sono stati predisposti otto posti di controllo su tutti gli ingressi del centro acatese, finalizzati a controllare i soggetti in entrata e uscita. Ben 35 le persone identificate, mentre 4 le perquisizioni veicolari effettuate nei confronti di un gruppo di ragazzi di Scemesi e 7 le contravvenzioni emesse con la decurtazione di oltre 20 punti dalla patente per le violazioni più importanti del codice della strada. Durante questo controllo i militari dell'arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa nei confronti di D'Angelo accusato di furto aggravato. Il fatto risale a due furti commessi rispettivamente l'11 marzo 2010 quando il 28enne fu arrestato per avere rubato cavi in rame per l'alta tensione unitamente ad altri quattro complici e il 22 maggio scorso quando insieme ad altri due complici era stato beccato a rubare in un'azienda agricola di Contrada Bonincontro. Ancora la cronaca, la Polizia Stradale di Ragusa continua i controlli per contrastare l'eccesso di velocità sulla strada statale 194 Modica Pozzallo nella giornata di ieri due pattuglie hanno utilizzato il telelaser nei pressi di Maganugo rilevando 12 infrazioni per eccesso di velocità. Due le patenti ritirate a conducenti che avevano fatto registrare una velocità di oltre 160 km orari in un luogo dove il limite è di 80 km orari. Uno dei due, un modicano di 33 anni, guidava addirittura senza patente in quanto non aveva mai conseguita e risultava essere stato denunciato nel 2011 per lo stesso reato. E migliorano anche se leggermente le condizioni del 13enne precipitato sabato pomeriggio da un lucernaio a Modica. Ieri si è svolto un momento di preghiera mentre gli scout di cui fa parte il ragazzo hanno organizzato una veglia. Vediamo. La città di Modica si stringe attorno alla famiglia del 13enne caduto sabato pomeriggio da un'altezza di 8 metri. Il giovane resta ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi di Catania dove nei giorni scorsi è stato operato alla testa per un grave edema cerebrale. I medici non si pronunciano anche se ieri sera pare abbiano riscontrato un leggero miglioramento. Intanto l'intera città della Contea manifesta la sua vicinanza alla famiglia del giovane. Ieri è stato organizzato un momento di preghiera a casa del 13enne a cui hanno partecipato parenti e amici mentre stasera il gruppo scout Modica 1 di cui fa parte il giovane ha organizzato una veglia di preghiera nella chiesa del Santissimo Salvatore. Intanto proseguono le indagini della Procura della Repubblica di Modica. Il PM La Placa sta esaminando quanto accaduto per appurare eventuali responsabilità. I controlli del territorio da parte dei carabinieri che hanno portato alla denuncia di due persone ma sentiamo i particolari in questo servizio. Due persone denunciate 8 contravvenzioni al codice della strada elevate per un totale di oltre 500 euro. A ciò si aggiungono 4 documenti di guida ritirati e 3 ciclomotori sottoposti a fermo amministrativo. E questo è il risultato del controllo straordinario del territorio eseguito dai carabinieri nel territorio della città di Modica. Per tutta la mattinata 14 militari dell'arma a Modicana hanno eseguito posti di controllo sulle principali arterie stradali di Modica bassa, Modica alta, nonché nella frazione di Frigintini e al quartiere Dente. Particolare attenzione è stata dedicata al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari e alla sorveglianza speciale al fine di verificarne il rispetto delle varie prescrizioni loro imposte. In tutto sono state controllate 15 persone senza rilevare alcuna violazione da parte degli interessati. Al termine del servizio, i militari hanno deferito il stato di libertà un cinquantenne di cicli, sorprese in possesso di un coltello a serramarico di genere vetato, occultato dall'automobilista all'interno del vano portagetti della sua autovettura. Dal punto di vista del controllo alla circolazione stradale, i carabinieri hanno quindi elevato otto sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, sottraendo in totale oltre 20 punti delle patenti di guida degli automobilisti trasgressori. Due di loro, reggitivi nel mancato uso delle cinture di sicurezza nell'ultimo biennio, verranno segnalati alla prefettura di Ragusa per l'eventuale sospensione dei titoli di guida. Un giovane modicano, sorpreso a far uso personale di Ascici in zona Monzerrato, è stato infine segnalato alla prefettura di Ragusa. Questa mattina una rappresentanza delle classi delle quinte elementari dell'Istituto Comprensivo Bufalino di Pedalino ha fatto visita alla sede della Compagnia dei Carabinieri di Vittoria in via Garibaldi. La visita è la prosecuzione di quanto era già stato trattato con i ragazzi della scuola. Nell'incontro che si è svolto lo scorso 14 febbraio con il comandante della Compagnia di Vittoria, Francesco Sorricelli, quando il comandante aveva parlato di temi come sulla legalità, come il bullismo, la circolazione stradale e l'organizzazione del sistema di pubblica sicurezza. E ci occupiamo adesso del MUO, se il Governo nazionale ha intimato lo stop dei lavori, in attesa di verifiche più approfondite, sarà adesso un organismo tecnico indipendente a fare le valutazioni sui possibili rischi per la salute. Buone notizie sul fronte MUOS. I lavori saranno sospesi in attesa di ulteriori verifiche sulle possibili conseguenze sull'uomo e sull'ambiente. La decisione è stata presa al termine di un vertice fra il Governo nazionale e quello regionale, convocato per esaminare la situazione che riguarda l'impianto satellitare americano in costruzione a Niscemi. Dunque, le antenne americane non saranno installate fino a quando non saranno disponibili i risultati dello studio dell'impatto sull'ambiente e sulla salute delle popolazioni interessate. Nella nota diramata dal Governo di Roma si legge, infatti, che è stato convenuto di rispondere alle preoccupazioni delle popolazioni locali con lo studio di un organismo tecnico indipendente sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute delle popolazioni coinvolte dalle emissioni elettromagnetiche. Ma non bisogna calare l'attenzione, perché c'è da vigilare, su come verranno effettuati gli studi e le verifiche, soddisfatti naturalmente i rappresentanti dei comitati che da mesi portano avanti la battaglia. E in chiusura vi ricordo il consueto appuntamento con 15 minuti con la nostra trasmissione di approfondimento. Oggi andrà in onda una nuova puntata con ospite Loredana Alfieri, omeopata di Vittoria, con cui abbiamo approfondito questa nuova medicina alternativa. Bene, per questa edizione è tutto. Vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro sito fritvonline1.it. Vi auguro un buon proseguimento. Grazie a tutti.